Buongiorno, ci troviamo oggi presso la sede italiana di Rital e Eplan, due aziende del gruppo Freedom Law, che da due anni condividono nella sede di Pioltello la stessa video. Il nostro business è concentrato sulla proposizione di tre pilastri fondamentali, la proposta di software di progettazioni, di prodotti ad alto contenuto tecnologico e di centri di lavoro in grado di risolvere i problemi realizzativi che i nostri clienti si trovano a dover risolvere quotidianamente. Miglioramento continuo e Value Chain, due elementi che uniti alle competenze ingegneristiche della nostra struttura ci permettono di arrivare a produrre il vero gemello digitale. È possibile automatizzare il ciclo produttivo per quadri elettrici utilizzando le competenze Eplan e Rital. Questo processo è particolarmente evidente nel ciclo produttivo di Valleggio sul Mincio, dove tutti i coefficienti di digitalizzazione hanno permesso di realizzare componenti dall'alto contenuto tecnologico e qualitativo. La vera chiave del nostro successo è di quello dei nostri clienti. Linea 90 è l'ultima nata in casa Rital e vi invitiamo a scoprire la fabbrica intelligente attraverso il video girato presso l'unità produttiva di Valleggio sul Mincio. Ci troviamo nel sito produttivo Rital a Valleggio sul Mincio, che dal 2011 produce impianti di riaffreddamento, condizionatori e scambiatori di calore ed elevate efficienze energetiche. Diamo lavoro a 400 collaboratori che operano all'interno del plant italiano in un'area produttiva di 9.000 metri quadrati, dove i nostri prodotti vengono realizzati e spediti in tutto il mondo. Negli anni abbiamo sviluppato molteplici processi di automazione evoluti, portandoci a produrre i sistemi di condizionamento Blue E Plus per quadri elettrici. L'innovazione e l'automazione sono gli elementi che ci contraddistinguono e ci hanno permesso di arrivare al progetto della linea 90. Cos'è la linea 90? Una linea di produzione totalmente digitalizzata, pensata per automatizzare il flusso produttivo di armadi elettrici cablati. Il flusso dei dati parte dall'ufficio tecnico, dove vengono progettati schemi elettrici attraverso i software di Eplan, che agevolano il lavoro di progettazione e quello in officina. Con Eplan Pro Panel riusciamo a realizzare il gemello digitale, verificarne la totale rispondenza al progetto e la compatibilità con i componenti utilizzati. I dati vengono inviati al software Eplan Smart Wiring, che agevola l'operatore di linea alla costruzione e dal cablaggio del quadro elettrico. Ci troviamo ora nell'area produttiva della linea 90 ed entriamo a vedere come funziona. Questa che vedete è la macchina automatizzata Rital Perforex, la quale, dopo aver ricevuto i dati di progetto ottenuti attraverso Eplan Pro Panel, esegue in automatico tutte le lavorazioni meccaniche richieste dal progettista e rende le carpenterie pronte per entrare nel successivo processo produttivo, ovvero il cablaggio elettrico. In contemporanea, attraverso l'utilizzo della Rital Secarex, le canaline necessarie per il cablaggio elettrico vengono tagliate su indicazione dei dati provenienti da Eplan Pro Panel. Ecco il cuore produttivo di linea 90, il punto centrale dove vengono cablati i quadri elettrici attraverso un processo digitale dove i prodotti provenienti dai centri di lavoro Rital, nello specifico vedete un armadio compatto AX, vengono assemblati insieme alle dati componenti. In questa postazione potete vedere come l'operatore esegue il cablaggio con l'utilizzo di Eplan Smart Wiring. In questo modo vengono visualizzati tutti i percorsi e gli instradamenti e non appena il collegamento elettrico è cablato correttamente, diventa verde come parte di un sistema semaforico. Il display digitale di Eplan Smart Wiring fa riferimento al layout 3D del modello virtuale in Eplan Pro Panel che consente il confronto tra progetto e prodotto finito. Il produttore è pronto per essere destinato alle linee di produzione di CIL per completare tutte le fasi costruttive. Dal 2011 ogni angolo dello stabilimento di valeggio sul gricio è stata una vetrina per l'implementazione dell'industria 4.0 in tutti i processi di produzione. Un esempio pratico di catena del valore ottenuta dall'utilizzo di prodotti e soluzioni Rital insieme a software Eplan. Abbiamo parlato della catena del valore abbinata al concetto produttivo ma le soluzioni Rital sono molto più ampie e permettono di digitalizzare tutte le fasi produttive fino alla loro realizzazione. La macchina Perfax LC è un esempio di ulteriore velocizzazione legata ai processi di lavorazione meccanica dei quadri perché attraverso la tecnologia laser e al proprio antroponorfo è possibile effettuare lavorazioni su ogni tipo di materiale e con la massima precisione. L'importanza del software Eplan ProPanel che dialoga con i centri di lavoro Rital consente di automatizzare la produttività dei quadri elettrici fino alla lavorazione completa dei cavi attraverso la macchina Wire Terminal. A completamento della catena del valore un passo fondamentale per l'integrazione del quadro elettrico e l'utilizzo del software Eplan Smart Wiring. I clienti sono per noi partner affidabili e decidono il futuro della nostra azienda ed è proprio partendo da questo principio che il nostro gruppo è orientato da sempre agli sviluppi tecnologici del futuro.